Ciao a tutti! Finalmente ho ultimato il terzo step, quello ai definitivi, domani ripartirò con i miei nuovi denti, sono veramente soddisfatto, spero che anche voi possiate esserlo perché sono veramente dei grandi, la struttura messa in piedi dal dottor Palmas è una cosa più unica che rara, per cui mi auguro che anche voi possiate essere felici e soddisfatti. Venite sicuramente fiduciosi, troverete delle persone che sanno rispondere alle vostre esigenze, io lo sono stato e lo sono tuttora, lo caldeggio vivamente. Ciao, mi chiamo Giuseppe. In questo percorso devo veramente ringraziare tutto lo staff, dal primo all'ultimo, per la cordialità, per mettermi al mio proprio agio, è stato veramente bene con tutti. Sono molto uniti, si scambiano fornazioni, collaborano in un ambiente direi di primo ordine, ne ho visti altri e qua veramente sono secondo me già all'avanguardia. Niente, andiamo avanti, prendiamo la vita e diamo senso al sorriso affrontando la vita quotidianamente. Grazie Giuseppe Semi Grazie a tutti Buongiorno, mi chiamo Gianfranco Poedio, sono venuto in Moldavia a fare i denti, precisamente a Kislao. Per quanto riguarda la clinica, assolutamente non mi aspettavo di trovare tutto ciò che ho trovato, anche a livello visivo, la bellezza e l'igiene soprattutto che esiste qua dentro. L'esperienza, a dir poco, fantastica. Tutto buono, tutto ok, vino, grappa, carne, verdura, formaggio meraviglioso e soprattutto ecco mi ricordano, mi ricordano la compagnia bellissima. Io sono venuta per il controllo, gennaio ho fatto i provvisori, operazione provvisori e poi sono tornata ad agosto, definitivi, top. Mangio di tutto, perfetto. Anche con i provvisori mangiavo di tutto. Nessun tipo di problema, proprio bellissimo. Tornarsi indietro lo rifarei non una, cento volte. Io sono veramente molto, molto soddisfatto. Grazie, grazie ancora a SS, del turismo dentale e al dottor Palmas. Grazie per l'ascolto, un saluto a tutti. Una rivederci al prossimo video. Peace.